Si avvicina a rientro in campo per la Samp dopo la sosta nazionale che ha tenuto i blu cerchiati lontani da gare ufficiali nell'ultima settimana. Il gruppo di Walter Mazzari lavora a soda Bogliasco in vista della trasferta di domenica pomeriggio quando il Doria andrà a far visita al Milan in quel di San Siro. Anche nella giornata di oggi la Samp Doria ha svolto una seduta pomeridiana concentrandosi su tattica e atletica. Restano a parte Campagnaro e Palombo mentre non sono presenti i nazionali Stankovicius e Ziegler che a breve rientreranno alla base dopo aver risposto alla convocazione delle rispettive nazionali. Intanto il giudice sportivo rende noto lo stop imposto ad Essena e a Dakar di espulsi due domeniche fa a Bergamo. Per entrambi una giornata di squalifica, il centrocampista e il difensore torneranno a disposizione di Mazzari per la gara in tela col Bologna del 26 ottobre. In mezzo alle partite contro Rossoneri e Felsinei la Samp dovrà affrontare la prima trasferta del gironcino di Coppa UEFA a Belgrado sul campo del Partizan. La data fissata è il 23 ottobre mentre per il secondo impegno europeo i blucerchiati dovranno attendere un mese. Sampdoria a Stoccarda è infatti a calendario il 27 novembre. Guarda i biglietti per le gare interne di UEFA, la società ha reso note modalità di acquisto e prezzi lanciando una importante novità. Da quest'anno saranno infatti disponibili mini abbonamenti per le partite casalinghe che l'urna di Nyon ha voluto contro Stoccarda e Siviglia. La fase di vendita di tagliandi sarà divisa in tre parti. Prelazione sui mini abbonamenti per gli abbonati in campionato, vendita libera mini abbonamenti e vendita biglietti per lo Stoccarda e infine vendita libera per il match contro il Siviglia. La prelazione per i mini abbonamenti riservata agli abbonati in campionato comincerà lunedì 20 ottobre. La vendita libera per lo Stoccarda e per i mini abbonamenti inizierà invece lunedì 3 novembre. La vendita libera infine per il singolo incontro con Siviglia partirà lunedì 8 dicembre. Sarà possibile assicurarsi i titoli per assistere alle partite presso Sampedoria Point, Feder Clubs e rivendite l'IS e l'Ottomatica autorizzate. Intanto la UEFA ha ufficializzato la designazione per Partizan Belgrado Sampedoria. La direzione dell'incontro è stata affidata al portoghese Cardoso. Chiudiamo con la celebrazione del quindicesimo anniversario della scomparsa dello storico presidente di Blucerchiato Paolo Mantovani, svoltasi ieri alla Fiumara nella via dedicata al più grande dirigente della storia sampedoriana. Presenti moltissimi tifosi, presenti anche Riccardo Garrone e Beppe Marotta che hanno voluto omaggiare Mantovani insieme ai tantissimi appassionati. In particolare Riccardo Garrone legato a Mantovani a un rapporto di amicizia e collaborazione ha ricordato così il padre della Sampdoro. È stato un grande presidente per una grande squadra, per me motivo di grande orgoglio presiedere essere capo di questa società, soprattutto con questa straordinaria toffeoseria che la sostiene sempre con grande forza e entusiasmo, anche in un momento come questo dove siamo partiti un po' male, ma presto ci riprenderemo.